La gestione del servizio dei rifiuti in Campania continua ad essere confusa e poco efficiente. Almeno è questo il giudizio espresso da numerosi sindici irpini che da anni stanno provando a contrastare le disposizioni regionali approvate per dare un assetto nuovo al sistema, che mette al centro gli enti locali spinti ad organizzarsi per ambiti territoriali. Un meccanismo complesso che continuerebbe a vedere all'apice della piramide la società irpini ambiente. Ora, alcune amministrazioni comunali esprimono perplessità anzitutto sui costi del servizio che stando il taglio del trasferimento dei fondi potrebbe mettere in serie difficoltà e riserve sulla efficacia del nuovo impianto. Fatto sta che la Regione ha rinviato la decisione di 12 mesi lasciando stare tutto come si trova. E questo sta generando ulteriore confusione ed incertezza. Sul punto abbiamo raccolto l'opinione del sindaco di Grotta Minarda, Giovanni Iannicello. Ritengo che da alcuni anni i sindaci della provincia di Avellino, magari quelli un po' più impegnati o quelli che fanno maggiore pubblicità delle loro idee, fra questi io, ritengo che avevamo un obiettivo. Non dando cambiare il pini ambiente, non dando modificare gli assetti dei servizi nelle singole comunità, ma far diminuire il costo, perché il costo la gente è stanca di pagare troppe tasse, troppi tributi e il costo dei rifiuti è diventato non per un problema di modalità in cui ogni amministrazione si è legata, ma sostanzialmente perché costano troppo. Il nostro Comune spende circa 2 milioni di euro per la raccolta e lo sbaltimento dei rifiuti. Volevamo raccogliere questo obiettivo, che secondo me si può raccogliere in un solo modo, e cioè facendo una gara di evidenza pubblica con le regole europee, dove tutti potevano concorrere anche il pini ambiente, sapendo che questo processo normativo porta alla salvaguardia dei posti di lavoro, perché nessuno di noi si sogna di lasciare a piedi dei lavoratori. Questo stato di confusione, secondo lei, potrà determinare un'emergenza anche organizzativa nei prossimi mesi? Ritengo che la provincia di Avellino abbia già dato molto con la discarica di Ariano, poi con quella di Bustarza. A lungo tempo, siccome non c'è progettualità, perché la provincia che a tutt'oggi tiene in mano queste condizioni delle stazioni di trasferenza, dello STIR, non chiede la discarica, credo che a lungo tempo, se non si fanno interventi per andare ai cosiddetti termovalorizzatori ambientali, quelle strumentazioni che distruggono i rifiuti, senza inquinamento, credo che a lungo andare questo problema ce l'avremo. E quando ce l'avremo, aumenteranno ancora i costi, per esempio la questione dell'umido, trasferirlo come è stato fatto in questi ultimi mesi a Catanzaro, in Sicilia, a Frosinone, in giro, per l'Italia, quel costo lo pagano i cittadini dell'intera regione, in particolare della nostra provincia. Lo stato organizzativo è confusionario, la regione ha fatto una regola per salvaguardare qualcosa, non si sta preoccupando di, insieme allo Stato chiaramente, non si sta preoccupando di queste infrastrutture che dovrebbero risolvere il problema, anche questo facendo diminuire i costi. Poi quando abbiamo il commissario che io ho invitato a dimettersi, Coppola, che fuori tempo, con regole sbagliate, ha posto in essere un'iniziativa nei confronti dei comuni della provincia di Avellino, raddoppiando, con una ordinanza, il costo dello smaltimento e dei rifiuti che vanno portati a discarica, lo ha fatto in un modo da 100 euro a 190 euro a tonnellata. Credo che non aveva l'abilitazione, credo che non lo poteva fare, io ho fatto anche un ricorso al TAR insieme ad altri comuni. Insomma, la confusione regna e i cittadini pagano, questa è la sostanza. Grazie a tutti.